Invito tutti ad avvicinarsi, prendete posto, fa un po' freddo ma non poi così tanto, siamo anche fortunati oggi. E l'ospite di oggi, quindi diamo ufficialmente il benvenuto a Katrin Votren, quindi parola poi a Gilda Vojardo. Buongiorno, spero che questi nostri incontri che si ripeteranno anche nei prossimi giorni siano interessanti, forieri di nuove idee per tutti i passanti, gli ascoltatori e anche gli appassionati di questi due mondi, moda e design. Abbiamo un obiettivo, avvicinare la cultura del design e la cultura della moda a tutti coloro che possono essere appassionati di conoscere qualcosa in più rispetto a questi due mondi. Ieri abbiamo incontrato un designer, abbiamo parlato con Fabio Novembre che ci ha raccontato delle sue esperienze trasversali di contaminazione, di compenetrazione di questi due mondi. Perché noi parliamo di progetto, il progetto è trasversale sia alla moda, quando si progetta un evento per la moda, quando si progetta un vestito, quando si comunicano moda, vestiti, sfilate e anche il backstage di quello che sta dietro a tutto questo. Avete una grande opportunità di vedere dei backstage che stanno normalmente nascosti e che in questa occasione vengono resi pubblici, le modelle vengono truccate, preparate per la sfilata in un modo molto visibile in questa gabbia trasparente. Ieri abbiamo quindi parlato di come si progetta un'architettura che è anche un'architettura destinata alla vendita di vestiti attraverso con un architetto e un designer. Oggi parliamo di comunicazione, di architettura per gli spazi della moda, di product design per l'oggetto di moda ma anche l'oggetto di arredo che è nelle nostre case rivestito magari di tessuto di moda. Ne parliamo attraverso l'esperienza di Catherine Vaudrin. Catherine Vaudrin non è un designer ma è una manager, una manager che ha lavorato in Louis Vuitton occupandosi inizialmente degli spazi di Louis Vuitton e ha introdotto quella che è ormai quasi una consuetudine di far progettare gli spazi nel mondo da dei progettisti, dagli architetti per poi occuparsi sempre di comunicazione in questo caso per i cento anni del monogramma della Louis Vuitton. Quindi sempre progetto ma progetto più rivolto alla comunicazione. È passata poi dal 2000 ad essere presidente amministratore delegato della casa Pucci e all'interno di Pucci ha anche qui lavorato su questa commissione tra progetto di design, product design, progetto di arredo, progetto di spazio e progetto di sfilate nonché far diventare un marchio che era stata un'icona degli anni 50, un marchio nuovamente attualissimo, contemporaneo e un'icona del terzo millennio. La parola a Catherine Vodran. Grazie Gilda. Allora la cosa che volevo raccontare sull'invito di Gilda era di fare capire quanto il design può fare parte di una strategia di marchio per un marchio di moda, lusso, accessorio, per precisare, allargare, completare un punto di vista su un marchio. Ho avuto la fortuna quando ero responsabile dell'immagine globale dei negozi da Louis Vuitton di iniziare un progetto che poi è vero e è diventato molto più importante e che continua oggi. Una delle cose sulle quali volevo insistere era che un progetto non nasce mai da nulla, nasce sempre da un pensiero che mano a mano si precisa nella mente dei team, dei manager, della gente che gira intorno al marchio e lì siccome si parla di Vuitton e di una casa francese tutto era partito da Parigi dove già all'inizio del 95 avevamo fatto un primo esperimento con una designer inglese Anoushka Hample con un primo negozio e un secondo su Champs-Élysées con Peter Marino. Dopo queste due esperienze di, come dire, rimaginare gli spazi del marchio per fare vivere un'esperienza sensoriale completa intorno a un marchio molto forte, abbiamo avuto voglia di fare un passo successivo e questo è stato possibile anche perché è nata un'opportunità a Nagoya in Giappone dove ci sono più opportunità che in Europa di fare dei building ex nuovi, di creare per la prima volta una casa nuova, un palazzo, Louis Vuitton. Abbiamo scelto apposta un giovane architetto all'epoca star emergent che poi è diventato ancora più famoso e si è affermato, si chiama John Aoki e è iniziato un percorso con lui molto interessante, nel quale noi gli abbiamo raccontato Louis Vuitton, però allo stesso momento volevamo che lui venisse fuori con un progetto che lo raccontasse anche lui, la sua visione moderna, modernissima, elegantissima e lui è venuto fuori con un gioco molto sofisticato basato sugli elementi grafici del marchio, è buffo che dica questo davanti a un negozio Louis Vuitton che sono il Damien e LV. E dunque il risultato di questa prima esperienza è stata questa scatola che poi richiama anche un po' il baule d'origine di Louis Vuitton come una doppia scatola dove questo effetto traslucente nasce da una superposizione di motivi di Damien, questi quadrati famosi della Louis Vuitton. Ed è stato un grandissimo successo che ha portato veramente uno, il marchio era fortissimo, è quello, però uno stato, uno statement di eleganza, di modernità che ha proprio rinforzato l'immagine, ha completato l'immagine del marchio e dopo a partire diciamo del grande successo di questo primo passo che credo di poter dire è stato uno dei primi nel mondo del retail abbiamo, questo è sempre Nagoya, come si legge oggi nel website Louis Vuitton sono nati altri progetti questi come una pila di scatole di bauli omotessando a Tokyo questo a New York, sempre con lo stesso architetto però poi si è anche allargato il discorso ad altri designer e questo può essere, non c'è una strategia, un modo di fare Louis Vuitton ha scelto questa strategia di avvicinarsi a tanti talenti sempre di una grande modernità e sempre che condividevano una certa visione sobria, elegante con questo gioco grafico però ci sono, si vede, poi altri marchi hanno sviluppato delle partnership molto diverse penso a Prada con Herzog de Meuron dove lì sono più degli oggetti spettacolari non c'è una strategia, ogni marco sceglie il modo di esprimersi attraverso il design qui ci sono francesi che hanno fatto questo negozio a Kobe e questo è per fare onore a Prada che questo piccolo building a Omotessando è un oggetto di design assolutamente incredibile dunque da lì è proprio nata una strategia di collaborazione per questa grande casa che è Louis Vuitton con dei designer ed è stato molto bello vedere che poi tanti altri progetti sono nati non so, Kengo Dior con mi sfugge il nome la curatrice della Biennale la Sejima Todd con Ito ci sono stati tanti esempi e dunque si capisce quanto due visioni estetiche si avvicinano quanto si possono completare e arricchire e viceversa dunque adesso vuoi che ti parli un po' della cosa della tela monogramma? ok un'altra sfida che è nata anche lì nel 1996 era di raccontare i cento anni di questa famosa tela con il logo LV che è molto conosciuta ovviamente e che è un design nel senso che Louis Vuitton stesso ha inventato il primo logo del mondo del lusso e lì partendo da un atto di design in qualche modo ci siamo rivolti all'epoca Louis Vuitton non faceva moda ci siamo rivolti al mondo della moda chiedendo a dieci designer di fashion designer di tutto il mondo di dare la loro interpretazione contemporanea della tela monogramma allora sono venuti fuori dei progetti di borse molto divertenti che poi abbiamo presentato di nuovo al mondo di oggi attraverso dei grandissimi eventi delle feste con delle scenografie molto divertenti di tutto un percorso attraverso dei bauli giganti dentro i quali si scopriva ogni borsa di ogni designer dentro il suo piccolo mondo e questo è stato un evento che ha girato il mondo e che ha ridato ha spiegato al mondo quanto contemporaneo poteva essere un elemento nato di design un logo forte nato cento anni prima un po' queste sono state due esperienze che ho avuto la fortuna di guidare dalla Louis Vuitton che sono stati fortissimi momenti di scambio tra questi mondi molto interessanti allora adesso magari vi parlo di Pucci Cappellini allora nel 2000 come dire venendo dalla Louis Vuitton arrivo in Italia alla guida della Emilio Pucci bellissimo marchio anni 50-70 diciamo per il periodo di gloria e tutto da fare rinascere allora ovviamente da una parte abbiamo lavorato come casa di moda sull'aspetto stilistico però esattamente allo stesso momento immediatamente abbiamo iniziato un percorso di fare vedere il marchio in un contesto contemporaneo abbiamo aperto un primo negozio subito ottobre 2000 fatto da un architetto e una decoratrice Tiziano Budafieri Elena Pessoa ed è stato già un primo passo importante e Gilda ci ha fatto l'onore in quel momento di fare una bellissima recensione pubblicazione del negozio e noi è stato incredibile quanto il pubblico e il pubblico appassionato di Pucci i fan di Vintage ci raccontavano quanto questo negozio gli parlava di Pucci pur essendo di una modernità assoluta e questo era stato il primo passo fin da subito quasi anche prima di lavorare sul prodotto era nato il negozio e diciamo che subito dopo nasce un'opportunità attraverso un giovane designer Patrick Norgay francese che avevo conosciuto lavorando dalla Louis Vuitton che aveva fatto una bellissima stava facendo una bellissima sedia con cappellini e mi chiama e mi dice ma Catherine perché non facciamo guardiamo questo progetto anche con gli occhi di Pucci e gli dico guarda sì io sapevo che era bravissimo aveva già una sedia al MoMA lo ammiravo molto e allora lui mi fa vedere il suo progetto e penso sì facciamolo perché Pucci ha proprio il design nel DNA è grafismo è colore è movimento nelle sue stampe e dunque abbiamo lavorato insieme per scegliere anche una stampa che avesse un senso nel senso che accompagnasse bene il movimento della sedia e abbiamo anche subito trasformato questa questa esperienza di product design in un piccolo evento nel salone nel mobile dico piccolo perché noi lo vedevamo come una cosa una chicca bellissima invece è diventato un evento molto importante in quel salone lì del 2001 e poi l'abbiamo anche integrato nel design dei negozi però non è nato per essere nel design dei negozi sono proprio state estetiche che si sono incrociate e raggiunte e questa è una delle bellezze di questi mondi quando si avvicinano e che non si sa mai dove le cose vi portano nascono in un certo modo e poi magari si ferma qua magari va oltre magari nascono altre opportunità può essere un one shot come questa che era più intesa come un segnale di vivacità di contemporaneità per Pucci quanto per esempio Pepe Vuitton era più una strategia con investimenti forti che è una strategia che va avanti oggi alla grande dunque vi volevo raccontare queste due cose e la prossima tappa della tua esperienza quale è cioè dopo aver lavorato così intensamente all'interno delle aziende in cui sviluppare quindi un progetto ma anche un programma che poi si sviluppa che prende anche delle pieghe magari non previste all'inizio secondo te qual è la strategia che si può consigliare a dei marchi più giovani e quale come vedi questi mondi che sono così diciamo affini e pensi che lo sviluppo di queste affinità possa aiutare reciprocamente i due mondi i marchi differenti che appartengono ai due mondi sì quando sono riuscite direi di sì la difficoltà in questi esercizi è di scegliersi bene come in una coppia in qualche modo perché non è che tutti i designer vanno bene a tutti i marchi non ci sono ricette è una storia di sensibilità di avere un obiettivo chiaro di non partire così facciamo qualcosa con un designer perché come bisogna avere le idee chiare è una storia di lifestyle di gusto di sensibilità di sogno dunque bisogna proprio trovare gli accostamenti giusti e questo non è facile però credo che siccome sono due mondi che questi diciamo in questi ultimi 10-15 anni si sono molto avvicinati anche perché si sono democratizzati e dunque sia la moda che il design sono diventati fenomeni molto più di massa in qualche modo e questo spiega anche l'interesse crescente del pubblico grande per questi incroci strani rinnova la percezione di un marchio di un prodotto ed è un elemento di comunicazione molto forte dunque io credo che non ci sarà mai fine a questo come dire tipo di collaborazione quindi prevedi nuovi e più ricchi sviluppi sì assolutamente bene se nessuno ha domande o curiosità da esprimere io credo che ringraziamo Katrin Votra grazie mille Gilda le cose meravigliose che ci ha fatto vedere e aspettiamo il prossimo appuntamento che ci ha fatto